bello a tutti i cazzi per me sono adesso gioca 322 e oggi siamo GTA 5 noi siamo gioca 322 e oggi siamo sulle gare di di che di GTA 5 31 milioni quando mi finiranno non so che cavolo fare però intanto non posso andare però io voglio una gara un bastard questo qua non mi fa se un bastard per fortuna non ci potremmo colpite no ciao aprite cielo già stavano a sbattere molta scena corri corri compagni d'alfa il destino che c'è destra d'entratore il bastardo che quale so non posso dire sto a gareggiato non c'era il telefono cavolo poi c'è il telefono a parte c'era il telefono e mi dice qua mi dice mezzogiorno poi non so ecco la bastarda gara e vabbè che poteva essere ragazzi bravo il tutto per il tutto in prima persona vediamo cosa succede quasi che pampete troppo chi è che è riuscito a farla può sclaccare aspetta sto a farli video su youtube quindi qua oh che ca... eh che crampione aspetta sto a farli video su youtube no una roba nonno no Sì! Ah, porto schifo! È uno spardo, ti piace! Posso subbarlo, mi piace! Dai, sono quarto, non sono ultimo! È la prima volta che non errei ultimo! Madonna! I believe I can fly! 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 C'ho schifo! Oh, porco schiaffo! È uno sp... Oh, cazzo! Ce la devo fare! Ce... No! No! Ero quinto! Ero quinto! Quinto! Cinco, ero quinto! Ero quinto! Ero quinto! Già! Che ricetto dell'acqua? Che bello! Non sono altro! Troppo bello! Sono partito con un po' di turbo! Avete visto la scintilla? Mo' ve la faccio vedere! Eh, invece sono abbastanza sugliata? No! Sono andato al perfetto! Sono a seconda e già sono realizzato! Perfetto, 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 perfetto! Alle curve non si accelera! Alle curve non si accelera! La scintilla! Ero quinto! Eh sì, non ce lo sbatte nel calantino! Ma io non l'ho mai fatto! Ragazzi, posso fare oltre loro! e so quattro però calma non c'è te... eeeh? cosa? come ho fatto il punto è che l'ho fatto in prima persona ho fatto una cosa in prima persona, e sto anche chiedendo ok volare oh 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 dai dove ti basso? ooooh non posso non essere libero dopo io mi confondo cioè sono terzo e mi basta perchè almeno sono sul podio anche se non c'è un podio non c'è solo il primo lo so però a noi ne è male 3 su 5 vè cosa? qua lo rifaccio in prima persona io lo farei non c'è una cosa non sono non è difficile non c'è un piccolo è un piccolo non c'è un piccolo stupino non c'è un piccolo è un piccolo non c'è un piccolo ci sp manco a chi non c'è si alcance ci sono riuscito sono secondo dai rega sono secondo sono quelli di giugno non sono mai arrivato secondo penso che non ci arriverò mai con la mia zia intorno c'è uno dietro di me guarda quanto amore non è possibile qualcosa mi dice che non dovevo andare a sbattere qualcosa mi dice che non devo salire ma io ci salgo stanno salendo tutti e quindi ci sono ecco mi basta così terzo adesso mi basta e mi avanza però però devo sentire segun un bici Get up the way Get up the way Sono partito di mezzo Sono partito di tutti Ma meglio E ora mi vedo la sua volta Che sono questo Che quando il cito fa questa cosa Dov'è migliorare questo Devo proprio Vado a sbattere Agli alberi Ma quella è la realtà Tutto è che non si è fatto Un tannato cavolo Ah quella mi piace Infatti mi sembrava Un po' In prima persona ragazzi Ci ripetiamo Questo è quello che mi ha fatto arrivare La prima persona Dai ragazzi Il checkpoint l'ho preso Il checkpoint l'ho preso Ragazzi L'ho preso Quindi Possiamo Continuare Vedete il checkpoint A cosa serve Ti salva la vita Non è la prima persona Cioè mi aveva fatto fare una bella cosa Però G Questo è durato Nonissimo Terzo Sono fatto Dieci cari Sì Aaaaaah Buongiorno Buongiorno Partito alla grana Alla merda Io sono 4 Sì 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 Andate piano Sì Andate al basso Come me Vuoi la vita? Aiutami tu No Prima proviamo senza prima persona Poi se ci serve aiuto Chiamiamola La prima persona Diciamo che sono rimasto solo io No? Ma non sono rimasto solo io Acab Mi dici con quale motivo Poi da là Adesso Ehm Iscrivetevi al canale Se ancora non ha piaciuto Per non perdere i prossimi video Iscrivetevi Commentate Lasciate i bei pollicioni E noi Ci vediamo Nel prossimo Video